Musica Draghi in conferenza stampa, tutti gli obiettivi sul PNRR saranno raggiunti entro giugno, andiamo avanti sulla crisi ucraina il premier sente Putin in un colloquio telefonico, dal leader russo la promessa di non bloccare le forniture di gas all'Italia ma, aggiunge Draghi, non ho visto spiragli di pace 92esimo giorno di guerra, Putin torna ad attaccare l'Occidente, le sanzioni ci hanno rafforzato, nessun poliziotto globale potrà fermarci sul campo Kiev perde terreno e ammette la Russia in vantaggio nel Lugask, oggi la visita della premier finlandese Sanna Marin e l'incontro con Zelensky La strage a scuola in Texas, costata la vita a 19 bambini e due adulti, la rabbia dei genitori che accusano gli agenti hanno tardato a entrare in azione il killer barricato nell'edificio per un'ora DDL Concorrenza, trovato l'accordo di maggioranza sui balneari, testo lunedì in aula al Senato per il voto sarà un successivo decreto a definire l'entità dei risarcimenti per chi perde la concessione, intesa anche sulla delega fiscale Il delitto di Laura Ziliani, dopo otto mesi di carcere Silvia Zani, una delle figlie dell'ex vigilessa uccisa nel Bresciano ammette l'omicidio della madre martedì, la confessione del fidanzato Mirto Milani, confermato il movente economico Ti ho cercato e ti ho trovato, sei un olio non filtrato, sei il decantato, 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 monini Il decantato, il nuovo non filtrato Italia Uno Stiamo indagando su una banda di ladri d'auto Due fratelli che si chiamano Foster Mi avete derubato Possiamo fare qualcosa per lei Max Clem, diruverete la Ferrari dal 62 direttamente dalla sua proprietà Avete una settimana Si parte Questa che parte del piano è? Credevo volessi improvvisare Overdrive Lunedì alle 21.20 Italia 1 Potrebbe dirtelo l'attore di SOAP Iliad Non ti deluderà Mai Non fidarti Fidati di Flavia Che manda cuori a tutti 97% di utenti soddisfatti Un'offerta a 9,99€ Fidati di chi ce l'ha Iliad È vero Ogni gioco ha le sue regole Ora è arrivato il momento di cambiarle Scegli di guidare il futuro Fai la mossa giusta E 2008 100% elettrico Da 189€ al mese con incentivi statali E un anno di ricariche illimitate Mi piace sentirmi leggera Per questo scelgo Golfetta Fatto con carni scelte di prosciutto italiano E poi c'è Bresì Gustoso ed equilibrato Da oggi anche al tacchino Golfetta Tutto il gusto della leggerezza Le insalatissime Riomare Puoi mangiarle come primo Come secondo Come contorno E come spuntino al parco Ognuno ha i suoi gusti Mangiare bene è semplice Con le insalatissime Riomare Riomare C'è un mare di possibilità Prova le insalatissime ceci È per tutti i gusti O tutta per te È Felicia La pasta innovativa Creata con i migliori cereali e legumi E da oggi c'è la nuova Felicia Spirulina Scoprila su Felicia.it O nel tuo supermercato di fiducia Sorrisi presenta Una grande superanteprima Avanti vendetta Mettiamoci nei guai The Batman In edicola solo con sorrisi La posta Chi è che ci scrive? La forestale Multa per sosta sulle zebrate Visto? Da domani si torna la liana Si cambia abitudini Tranne che per le gocciole Gocce di cioccolato Su squisita pasta frollo Gocciole pavesi Trasforma la giornata da così A così Giungla A noi due Nuova Ypsilon Alberta Ferretti Approfitta dei nuovi incentivi statali Nuova gamma Ypsilon A partire da 10.200 euro 150 giga Chiamate e limitate E 5G incluso A 7,95 euro al mese Per tutti Abbonati entro il 31 maggio Vieni in negozio O vai su fastweb.it Oggi vi parlo Della mia pelle E io della mia Io voglio idratarla Io averne cura già da ora Esigenze diverse Stessa soluzione L'acqua Noi beviamo rocchetta Rocchetta Mi depura Nel modo più naturale Plin plin Disseta la mia pelle Che appare luminosa Più bella È la nostra amica Per la pelle Rocchetta Puliti dentro E belli fuori Perché la pelle È lo specchio della nostra bellezza Contro pulci e zecche Seresto Fino a 8 mesi di protezione continua Grazie alla tecnologia Rilascio controllato Di piccole dosi di principi attivi Protegge anche dal rischio di trasmissione Di lesmaniosi nel campo È un medicinale veterinario Leggere attentamente il foglietto illustrativo Seresto Al ritmo dei suoi giochi Scopri di più su Seresto Punto it Champions League La finale Due club leggendari I fantastici Reds di Jurgen Klopp Sfidano I Blancos Di Re Carlo Ancelotti Da Parigi Liverpool Real Madrid Sabato alle 21 Canale 5 Heineken Expedia Da Wind3 Parte un'energia nuova Un'energia semplice Trasparente Da oggi Mi vedrete sotto una luce nuova Nasce Wind3 Luce gas 100% ecosostenibile Molto più vicini Anche nell'energia Benvenuti nel mondo Dei produttori italiani Almaverde Bio Almaverde Bio Volersi bene Ben ritrovati da Meteo.it Diamo uno sguardo dettagliato Alla previsione per la giornata di venerdì Vi segnerò ancora la possibilità Di qualche debole pioggia Lungo l'arco alpino Nelle zone interne del centro E anche in Sardegna Sul resto del territorio Prevalenza di tempo stabile Per maggiori dettagli Come sempre la nostra app Meteo.it La primavera in Trentino Ti lascia senza parole La ghivette dolomitiche Grandi appuntamenti culturali A Trento Dal 2 al 5 giugno Alla 17esima edizione del Festival Dell'Economia di Trento Dopo la pandemia Tra ordine e disordine Il tema di quest'anno 9 premi Nobel Ospiti nazionali e internazionali Per oltre 200 eventi Nel centro storico Insieme a musica e teatro Il Festival dell'Economia Ti aspetta a Trento Dal 2 al 5 giugno Scopri il palinsesto Su festivaleconomia.it Trentino Frontline Triact Con la bella stagione Può proteggere il mio cane Anche da danzare e pappataci E riduce il rischio Di leismaniusi Frontline Triact Una protezione Che ti segue ovunque Italia Vi ricordate La prima volta Che avete visto Un dinosauro? Su Italia 1 Una serata dedicata A due capolavori d'avventura Diretti da Steven Spielberg Jurassic Park E Il mondo perduto Mercoledì Dalle 21 e 20 A volte il tuo corpo Trattiene liquidi E produce tossine in eccesso Come una spugna Acqua Vita Snella Aiuta il tuo corpo A eliminare Quello che non serve Vita Snella L'acqua Che elimina l'acqua Vivi ogni momento Con il gusto rinfrescante E italiano Di nastro azzurro Ora per ogni nastro azzurro Il mal di testa da cervicale Nasce da un'infiammazione Che provoca dolore Dalle spalle fino alla testa E può durare a lungo Puoi provare Mom&Doll Riduce il dolore Fino a 12 ore Mentre combatte l'infiammazione Mom&Doll Anche in capsule molli Da Angelini Farma Nuovo Skoda Kamik Tuo da 199 euro al mese Anticipo pari alla rata Solo con eco-incentivi Tan 4,49 Taiga 5,70 Skoda Simply Clever Anche se le cose cambiano Non cambia ciò che ci rende felici Una fragrante e gustosa pasta frolla Nei tarallucci mulino bianco Da oggi ancora più buoni Cerca la tua felicità 150 giga Chiamate illimitate E 5G incluso A 7,95 euro al mese Per tutti Abbonati entro il 31 maggio Vieni in negozio O vai su fastweb.it Dichiarazione dei redditi Usa Taxfix Hai un commercialista a disposizione E puoi caricare i tuoi documenti Con una semplice foto Ok Ho caricato anche la certificazione unica Ora penso a tutto io Scarica l'app O vai su taxfix.it Sorrisi presenta Una grande super anteprima Avanti vendetta Mettiamoci nei guai The Batman In edicola solo con sorrisi Tutto a più gusto Quando condividi ciò che ami di più Come il gusto di Crispy McBacon Con bacon croccante 100% da pancetta italiana E l'inconfondibile salsa In formato gran Lasciati tentare Dal gran Crispy McBacon E dall'extra bacon Sono appassionata di sostenibilità Da molti anni Da quando mi sono trasferita A Siviglia 15 anni fa Oggi Lavora lo sviluppo Dei grandi progetti di Amazon Legati all'energia rinnovabile Come questo Uno dei nostri più grandi Impianti fotovoltaici in Europa Trasforma la luce del sole In energia pulita Per alimentare le nostre attività Sono orgogliosa Di dare il mio contributo Alla costruzione Di un futuro sostenibile Complice Miglior amante Miglior amico In una parola Sei tu Ibrido per natura Nuovo Renault Arcana Nuovo Renault Arcana E-Tech Hybrid Fino all'80% del tempo In modalità elettrica in città In concessionaria online Scopri gli incentivi statali E come Renault garantisce Il valore della tua auto L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni Tutto mi sembrava diverso Mi sentivo di cattivo umore Anche di notte i pensieri Non mi lasciavano mai Dormivo male Poi il mio farmacista Mi ha consigliato Laila Dalla ricerca scientifica Nasce Laila Farmaco con formula Silexan Che con una capsula al giorno Aiuta a combattere i sintomi Dell'ansia lieve Laila Più spazio alla vita È un medicinale Che può essere consegnato Solo dal farmacista Ascoltalo Da Menarini E tornata alla Ringo Limited Edition Più incredibile di sempre Con Ringo Vinci una console PlayStation 5 al giorno E un PlayStation 7 a settimana Scopri di più Su Ringo.it Ogni estate Migliaia di aridi Invadono le spiagge Il contatto con l'acqua Scatena una Lo spostamento del tiro Li tormenta Non abbandonarli Offri loro un'estate Rinfrescali con il suo gusto unico La vita è troppo bella Per fare l'arido Goditela con esta tè E se il caldo è insopportabile? Prova esta tè Ice Il gusto unico di esta tè Giacciato Da oggi è anche Mentalime Tè Brrr Best Tutto quello che ami è ricondizionato La tua musica Il tuo stile Perché non il tuo smartphone? Acquista il tuo iPhone ricondizionato su Swappi.com Ci sono già un milione di clienti soddisfatti Entra anche tu nella ricondizionation Con Swappi Allora ragazzi Rinfrescali Rinfrescali Car's ready Yours? Electric It's not my style Cabrio? Questa strada Well, what do you think? Sembra finta I feel electric Dolce strada Tornano gli eco-incentivi Nuova 500 da 199 euro al mese E dopo un anno Scegli se tenerla o sostituirla Con la nostra offerta internet Prezzo fisso e basso ogni mese E velocità supersonica sempre Fatto Oh, è grazie al 5G di Link Ma avete una super connessione Senza fili Tranquilli Niente asterischi Fidati di chi non ha mai preso sanzioni per ingannevolezza Scegli la nostra super connessione 5G Parla e naviga senza fili Fino a un giga Verifica la copertura Vabbè, solo 5 minuti Quanti 5 minuti di studio perdi ogni giorno? Per rimanere concentrati E ragionare con la giusta lucidità C'è Acutil Fosforo L'integratore per la mente numero 1 in Italia Lucida la tua mente Con Acutil Fosforo Ragazzi, caffè? Americano Macchiato a caldo? Macchiato a freddo Lungo, grazie Per me è corto E tuo amore? Con lo stecco È arrivato Pocket Coffee gelato Il piacere al caffè che mette tutti d'accordo Tutto il gusto del caffè in un cremoso gelato Pocket Coffee gelato L'unico Pocket Coffee con lo stecco È di più Molto di più Ascolti le storie di chi aveva perso tutto E sai che quello che hanno ricevuto non è solo una casa È di più Molto di più È la vita Osservi lo sguardo di Massimo con i malati di Alzheimer E senti che per lui non è solo un lavoro È molto di più È una missione Ecco perché la tua firma per l'otto per mille alla Chiesa Cattolica Non è mai solo una firma È di più Molto di più Su Infinity Plus non perdere il grande cinema di Quentin Tarantino Uno dei registi più amati di sempre Rivivi la Hollywood degli anni 60 con i fenomenali Brad Pitt e Leonardo DiCaprio E lotta per la libertà al fianco di Jamie Foxx nei panni di Django In un western esplosivo Prova Infinity Plus è gratis per 7 giorni poi a 7,99 euro al mese È disponibile solo su Mediaset Infinity Ehi Mercedes, accendi la musica Ehi Mercedes, accendi la musica Nuova Mercedes Mg SL Diventa leggenda su Mercedes-Benz.it 150 giga Chiamate illimitate e 5G incluso a 7,95 euro al mese per tutti Abbonati entro il 31 maggio Vieni in negozio o vai su fastweb.it Oggi siamo da Federico E lei è Giulia I miei due anni di insonnia E se ti dicessi che posso offrirti due anni di tranquillità? Vieni tu a leggere le favole No, ma ho un'offerta da favola E i vantaggi durano due anni Hai capito Giulia? Funziona Scegli oggi di Enel Energia e l'offerta 100% green che ti dà il 30% di sconto sul prezzo della componente energia Bloccato per due anni Scegli un domani migliore Chiama il numero verde o vai su enel.it La bontà nasce ogni giorno Grazie a semplici gesti d'amore Come quelli che noi di Fattorie Osella facciamo Per offrirti un formaggio dal gusto unico Senza conservanti E con il latte piemontese a chilometro zero Dei nostri allevatori di fiducia Fattorie Osella Nient'altro che bontà Le fattorie Da MediaWord arriva il Red Friday Il vero Black Friday dell'estate Con sconto subito spendi almeno 500 euro E hai uno sconto di 50 Con 750, 75 Con 1150 E se arrivi a 2000 euro ne risparmi 400 MediaWord Fatto apposta per me I preservativi non sono tutti uguali Di che dimensione? Più o meno lubrificato? Quanto sottile? Quando vai ste bene È quello adatto a te Durex I primi 7 secondi 7 secondi per capire se amore o odio 7 secondi di impulsi Di pregiudizi 7 dannati irrazionali secondi Bastano 7 secondi per convincerti 7 6 5 4 3 2 1 Cupra Formentor Drive another way Sky Wi-Fi Ora vinci anche i premi Provider consigliato Numero 1 per qualità prezzo Prodotto dell'anno Prendi in ogni angolo della casa Prendi la pallina Se ci riesci Eccoci! Siamo tornati! Vedi? Tu ultra premiata Io ultra coccolato Fai felice tutta la famiglia Con Sky Wi-Fi Fibra 100% Ultra veloce Ultra premiata dai consumatori Chiamaci 02 50 50 Vieni su sky.it Nei negozi Sky Italia 1 Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn it's all changing so fast I still love me I see And that's just my baby I would be excited for you Italia 1 Radio Nord Cornetto Battiti Live Il cuore della musica Prossimamente Sul Italia 1 So perché avete paura di uscire la notte Batman Che cosa proponi? Dobbiamo uccidere Batman Batman deve togliersi la maschera A morire a qualcuno per ogni giorno che ve lo farà O muori da eroe Corvissimi O vivi tanto a lungo Da diventare il cattivo Il Cavaliere Oscuro Domenica alle 21 e 20 Su Italia 1 Tu completi me Felicità Navigare su Deghi Trovando gli arredi E la felicità Per il bagno e il giardino Lo specchio e il lettino E la felicità Sì, con Deghi c'è già La pronta consegna Con doccia e soffà Ti costerà la metà Che felicità Vai su Deghi.it Se non Deghi, non ci credi Tè San Benedetto Zero Il piacere rinfrescante del tè Zero zuccheri E zero calorie Tè San Benedetto Zero My Secret Il mio segreto Acqua minerale San Benedetto Pura, leggera Con calcio, magnesio E tanti nutrienti preziosi San Benedetto My Secret Nuova Ypsilon Alberta Ferretti Approfitta dei nuovi incentivi statali Nuova gamma Ypsilon Tutti i silos missilistici Verranno attivati con coordinate Verso agli Stati Uniti Vorrei far parte delle operazioni La richiesta è negata Harry Questa è impazzia Ditemi dove si trova E io alzo i tacchi Mi sei mancato Qual è il piano? Entri nel locale E gli chiedi di mio padre Extraction Martedì 21 e 20 Italia 1 Quindi il piano è nessun piano Funzionano i film? Pausa! Ho scelto il cinema perché rende ogni cosa straordinaria E se tutti vivessimo questa magia? I riflettori sarebbero accesi su ogni momento speciale Vedremo le cose da una prospettiva diversa E tutto avrebbe più colore Puoi farlo Domina la scena Xiaomi 12 Series Oh a pranzo Dove andiamo? Ah sono in Italia Pizzeria La pizzeria Insalatina 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 Pizzeria Hamburger Insalatina La piadineria Piadineria Per trovare l'accordo c'è la piadineria Scopri la solare Fatta al momento Con prosciutto crudo Stracciatella pugliese Rucola E datterini gialli La piadineria La più buona che ci sia L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni Tutto mi sembrava diverso Mi sentivo di cattivo umore Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai Dormivo male Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila Dalla ricerca scientifica nasce Laila Farmaco con formula Silexan Che con una capsula al giorno Aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve Laila Più spazio alla vita È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista Ascoltalo Da Menarini Solo un mondo così Può dare vita a una birra così La natura non ha mai avuto un sapore migliore Corona Prodotta con 100% ingredienti naturali Tutto quello che ami è ricondizionato La tua musica Il tuo stile Perché non il tuo smartphone? Acquista il tuo iPhone ricondizionato su Swappi.com Ci sono già un milione di clienti soddisfatti Entrati tu nella ricondizionation Con Swappi La realtà è che il sesso non è sempre così La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è uguale tutti i giorni La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel Inizia a sentirti a tuo agio Inizia a goderti una nuova realtà Con i gel lubrificanti Durex Naturals Scopri la magia dei nostri abiti Indossa il tuo sogno Atelier Eme Unico Come te Nuova serie Realme GT2 Con design eco-friendly effetto carta La carta incontra la tecnologia Realme GT2 Più di quello che vedi Realme Il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa Renault Twin Goitech 100% electric Agile in città Con un raggio di sterzata record In concessionarie online scopri gli incentivi statali E come Renault garantisce il valore della tua auto Che sta si chiama Meraviglia Che mi piglia e scompiglia Aveo colori do sole Aveo sapori do mari Quando ma calo mi sento tutto priato Per chi ti lascia Senza ciato Birra Messina Cristalli di sale La Sicilia Si sente Scopri il gin Bombay Sapphire Risveglia la tua creatività con un Bombay & Tonic In Italia si stima che un milione di bambini Ogni anno rinunci al proprio sogno Vittime di privazioni Trascuratezza E abuso L'emergenza Covid-19 Ha aggravato questa situazione Cesvi si prende cura di loro in Italia e nel mondo Da oltre 35 anni Realizza anche tu insieme a Cesvi I sogni dei bambini Dona con un SMS O chiamando da rete fissa Il 45580 Aiutiamoli insieme a diventare grandi 150 giga Chiamate e limitate E 5G incluso a 7,95 euro al mese Per tutti Abbonati entro il 31 maggio Vieni in negozio O vai su fastweb.it Da MediaWorld arriva il Red Friday Il vero Black Friday dell'estate Con sconto subito Spendi almeno 500 euro E hai uno sconto di 50 Con 750 75 Con 1150 E se arrivi a 2000 euro Ne risparmi 400 MediaWorld Fatto apposta per me Siamo davanti a una nuova stagione Dove ognuno di noi ha un ruolo essenziale Per questo sosteniamo nuovi modi di muoverci E ci impegniamo per offrire soluzioni sempre più accessibili Perché per una nuova stagione Serve l'energia di tutti Plenitude Abbiamo energia per cambiare Viva la vita Viva la vita As beautiful as a dream can be Viva la vita La da di da da As beautiful as a dream can be Vivi ogni momento Con il gusto rinfrescante E italiano Di nastro azzurro Ora per ogni nastro azzurro Italia 1 Chi pensa in piccolo punta alla cima È il massimo che può raggiungere La rapina delle rapine In un gioco Senza scrupoli Per incrementare il vostro guadagno Stai forse dicendo che questi ladri Stanno facendo la cosa giusta Lasciando a me il pesce più grosso di tutti Bruce Willis Christopher Meloni Dave Bautista I predoni Domani sera alle 21.20 Su Italia 1 Affronta la tua stanchezza con Solgar Oligo Mac Plus Integratore a base di magnesio Ad alto assorbimento Che contribuisce alla riduzione di stanchezza E affaticamento Oligo Mac Plus Scegli il gold standard di Solgar Skoda presenta Kamek Il city sub Nuovo Skoda Kamek Tuo da 199 euro al mese Anticipo pari alla rata Solo con eco-incentivi Tan 449 Tiger 570 Skoda Simply Clever Suzuki 100% Hybrid 100% Trazione 4x4 Suzuki Da Wind3 Parte un'energia nuova Un'energia semplice Trasparente Da oggi Mi vedrete sotto una luce nuova Nasce Wind3 Luce gas 100% eco-sostenibile Molto più vicini Anche nell'energia Italia 1 Ha mai desiderato bloccare Un istante della sua giornata Per dire Questa non è la mia vita È il loro vero padre Quello è un fallito mio caro Cosa aveva di così orribile L'uomo con cui ha vissuto 14 anni Robin Williams Non posso mandar via la Doubtfire La tata più amata Un donno Della storia del cinema Sono prole dipendenti signori Abbiamo un magnifico show Oggi Mrs. Doubtfire Quando avrà luogo l'incantevole serata Sabato alle 21.20 Su Italia 1 Questa si chiama Meraviglia Che mi piglia e scompiglia Aveo colori do sole Aveo sapori do mari Quando Macalo mi sento tutto priato Per chi ti lascia Senza ciato Birra Messina a cristalli di sale La Sicilia si sente Scopri il gin Bombay Sapphire Risveglia la tua creatività Con un Bombay & Tonic Per la scienza La prima impressione Si crea in 7 secondi 7 dannati irrazionali secondi Cupra Formentor Bastano 7 secondi Per convincerti Con il sottocosto 1 euro La scopa ricaricabile Roventa X-Force Flex 8 e 60 Animal Care E tu ha solo 199 euro Perché ogni euro Batte forte Sempre Hai presente quando vorresti saltare quei noiosi imprevisti del viaggio Ma tu sai di avere qualcosa che ti porta in un mondo emozionante all'istante Che aspetti? Riempi la tua vita di colpi di scena con Mediaset Infinity I grandi contenuti Mediaset Sempre gratis Rivivi la storia di Rosy Abate Da squadra antimafia Fino alla regina di Palermo Trovi tutte le stagioni gratis Su Mediaset Infinity Mediaset Infinity Scarica subito l'app Sai perché Fanta è così buona con gli snack? Perché gli snack danno colore alla vita Come Fanta Goditi tu snack time Con Fanta Nuova Ypsilon Alberta Ferretti Approfitta dei nuovi incentivi statali Nuova gamma Ypsilon a partire da 10.200 euro Sai qual è l'impronta che lasci sull'ambiente? Questa Grande come quella di un gigante da 7 tonnellate È la CO2 che ognuno di noi produce in un anno Ma con Eon possiamo ridurla È ora di agire Scarica l'app e unisciti alla nostra Green Community Se ci unisce è Peroni Italia Uno Stiamo indagando su una banda di ladri da auto Due fratelli che si chiamano Foster Mi avete derubato Possiamo fare qualcosa per lei Max Klem Vi ruverete la Ferrari da 62 Direttamente dalla sua proprietà Avete una settimana Si parte Questa che parte del piano è? Credevo volessi improvvisare Overdrive Lunedì alle 21.20 Italia 1 Quando hai bisogno di uno snack gustoso e nutriente Scegli una barretta Kellogg Kellogg's Barretta Con frutta secca, avena integrale e cioccolato Barrette Kellogg Il tuo snack pieno di gusto Draghi in conferenza stampa Tutti gli obiettivi sul PNRR saranno raggiunti entro giugno Andiamo avanti Sulla crisi ucraina Il premier sente Putin in un colloquio telefonico Dal leader russo la promessa di non bloccare le forniture di gas all'Italia Ma, aggiunge Draghi, non ho visto spiragli di pace 92esimo giorno di guerra Putin torna ad attaccare l'Occidente Le sanzioni ci hanno rafforzato Nessun poliziotto globale potrà fermarci Sul campo Kiev perde terreno e ammette la Russia in vantaggio nel Lugask Oggi la visita della premier finlandese Sanna Marin e l'incontro con Zelensky La strage a scuola in Texas costata la vita a 19 bambini e due adulti La rabbia dei genitori che accusano gli agenti hanno tardato a entrare in azione Il killer barricato nell'edificio per un'ora Didi e le concorrenze ha trovato l'accordo di maggioranza sui balneari Testo lunedì in aula al Senato per il voto Sarà un successivo decreto a definire l'entità dei risarcimenti Per chi perde la concessione intesa anche sulla delega fiscale Il delitto di Laura Ziliani Dopo otto mesi di carcere Silvia Zani Una delle figlie dell'ex vigilessa uccisa nel Bresciano Ammette l'omicidio della madre martedì La confessione del fidanzato Mirto Milani Confermato il movente economico Italia 1 Chi pensa in piccolo punta alla cima è il massimo che può raggiungere La rapina delle rapine In un gioco Senza scrupoli Per incrementare il vostro guadagno Stai forse dicendo che questi ladri stanno facendo la cosa giusta Lasciando a me il pesce più grosso di tutti Bruce Willis Christopher Meloni Dave Bautista I Bredoni Domani sera alle 21.20 Su Italia 1 Vivi ogni momento Con il gusto rinfrescante E italiano Di nastro azzurro Ora per ogni nastro azzurro Le vere sfide Sono quelle di ogni giorno Vivile con Sustenium Plus La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi Sostiene la tua voglia di energia Sustenium Plus Dai energia alla tua energia È Menarini Svegni il tuo laptop Che bene si sta Ho chiuso tutti i file Che bene si sta Non resta nulla da fare Se non riposare Che bene si sta Per i bambini malati è sempre emergenza Ogni giorno Casa Oz la vive con loro e con le loro famiglie Casa Oz è una casa per giocare, parlare, mangiare Insomma, per star bene insieme Abbiamo bisogno di te per continuare a offrire una casa e la nostra quotidianità che cura Oltre ogni emergenza Con te Accanto ai bambini malati Sostieni Casa Oz con un SMS O una chiamata da rete fissa Al numero 45589 Grazie 150 giga Chiamate illimitate E 5G incluso a 7,95 euro al mese Per tutti Abbonati entro il 31 maggio Vieni in negozio O vai su fastweb.it La realtà è che il sesso non è sempre così La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è uguale tutti i giorni La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel Inizia a sentirti a tuo agio Inizia a goderti una nuova realtà Con i gel lubrificanti Durex Naturals Solo un mondo così Può dare vita a una birra così La natura non ha mai avuto un sapore migliore Corona Prodotta con 100% ingredienti naturali Italia Uno Radio Norva Cornetto Battiti Live Il cuore della musica Prossimamente Su Italia Uno Ben ritrovati da Meteo.it Diamo uno sguardo dettagliato alla previsione per la giornata di venerdì Vi segnalo ancora la possibilità di qualche debole pioggia lungo l'arco alpino Nelle zone interne del centro e anche in Sardegna Sul resto del territorio Prevalenza di tempo stabile Per maggiori dettagli come sempre la nostra app Meteo.it La primavera in Trentino ti lascia senza parole Laghi, vette dolomitiche e grandi appuntamenti culturali A Trento dal 2 al 5 giugno alla 17esima edizione del Festival dell'Economia di Trento Dopo la pandemia tra ordine e disordine Il tema di quest'anno 9 premi Nobel Ospiti nazionali e internazionali per oltre 200 eventi nel centro storico Insieme a musica e teatro Il Festival dell'Economia ti aspetta a Trento dal 2 al 5 giugno Scopri il palinsesto su festivaleconomia.it Trentino Tornano Polizia di Chicago Il sergente Voight e la sua squadra È come combattere contro un fantasma, Kevin Andrò dritto per la mia strada Chicago PD Vuoi morire? La nuova stagione Non te lo chiederò ancora Da giugno in prima visione Su Italia 1 So fresh So fresh So fresh I've been freezing out Got a pop back down We ain't even now Tell I made no joke Cause I like it when it's cold I don't even wanna know So fresh So fresh I like it when it's cold 7 secondi per capire se amore o odio, 7 secondi di impulsi, di pregiudizi, 7 dannati irrazionali secondi. Bastano 7 secondi per convincerti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cupra Formentor, drive another way. Sono appassionata di sostenibilità da molti anni, da quando mi sono trasferita a Siviglia 15 anni fa. Oggi lavoro allo sviluppo dei grandi progetti di Amazon legati all'energia rinnovabile, come questo, uno dei nostri più grandi impianti fotovoltaici in Europa. Trasforma la luce del sole in energia pulita per alimentare le nostre attività. Sono orgogliosa di dare il mio contributo alla costruzione di un futuro sostenibile. Radio 105 TV. Il meglio della musica e dell'intrattenimento di Radio 105 è sul canale 66 del Digitale Terrestre. Tutto esaurito con il capitano Marco Galli e la sua ciurma. 105 Takeaway con Daniele Battaglia è di Letta Leotta. 105 Mikasa con Max Brigante. Ascoltaci e guardaci sul canale 66 del Digitale Terrestre. Radio 105. Proud to be different. Con la nostra offerta internet, prezzo fisso e basso ogni mese e velocità supersonica sempre. Fatto! Ora grazie al 5G di Link, ma avete una super connessione. Senza fili. Tranquilli. Niente asterischi. Fidati di chi non ha mai preso sanzioni per ingannevolezza. Scegli la nostra super connessione 5G. Parla e naviga senza fili fino a un giga. Verifica la copertura. Liberi. Liberi. Serata fresca e rilassante. Sai qual è l'impronta che lasci sull'ambiente? Questa. Trovi che sia grande? È enorme. Come quella di un gigante che pesa 7 tonnellate. È la nostra carbon footprint. La quantità di CO2 che ognuno di noi produce in media in un anno. Scegliere l'energia 100% green e le soluzioni sostenibili di E.ON può aiutarti a pesare meno sull'ambiente. È ora di agire. Unisciti alla nostra green community. Scarica l'app E.ON e scopri come ridurre la tua impronta e i tuoi consumi. So perché avete paura di uscire la notte. Batman. Che cosa proponi? Dobbiamo uccidere Batman. Batman deve togliersi la maschera a morire a qualcuno per ogni giorno che non lo farà. o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Il Cavaliere Oscuro. Domenica alle 21.20 su Italia 1. Tu completi me. Domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 si vota per 5 referendum relativi all'abrogazione di norme in materia di incandidabilità e di vieti di ricoprire cariche elettive di governo a carico di chi abbia riportato condanne per delitti non colposi misure cautelari limitative della libertà personale separazione delle funzioni di pubblico ministero e giudice procedure di valutazione dei magistrati Modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per l'elezione al Consiglio Superiore della Magistratura Il testo integrale dei quesiti è disponibile su www.interno.it Chi vuole che le norme oggetto di ciascuno dei quesiti siano abrogate deve tracciare un segno sul riquadro Sì. Chi invece intende mantenere in vigore tali norme deve tracciare un segno sul riquadro No. Affinché ciascun referendum sia valido è necessario che almeno il 50% più uno degli eventi diritto partecipi alla votazione Per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili le modalità di voto sono regolate da norme specifiche che gli uffici comunali possono illustrare votano tutti i cittadini maggiorenni presentando un documento di identità e la tessera elettorale